guardavo mamma mia casa neve di lontano e pensavo a tante cose momenti ammutamenti riflessioni profonde un tempo che è passato nella cura ci siamo fatti vitti mamma mia in cinquanta tu sei tanto ogni tanto quando Gesù Cristo c'era la possibilità passamola poco assieme quando è tornata complicata la vita mamma mia corriamo corriamo perché è tu e non lo sappiamo che non ti dimostra più non puro una sensazione, non crepaccio ma è a godere di piccole sensazioni, piccoli momenti perché va tanto rimane, non sappiamo se c'è stampa, non puoi ascoltare le immagini, la vita è in morse e la candela che si consuma piano piano, andava dove c'era una facciata di finestra condividete sempre che va stricato, più quando potete, perché ti impettiranno, è un famo, è un sito del demonio adesso non c'è tutta cosa, prima o poi, adesso io non stiamo accorti, rischiamo di rimanere a bocca asciutta